di una forza politica e dell'altra corrisponde o se deve essere cambiata. Truccate le carte sulle regole costituzionali per cambiare la carta costituzionale. E trovate il tempo per occuparvi della legge sull'omofobia. Insomma, francamente, pensare che la vera urgenza di questo Paese sia mettere gli italiani nelle condizioni... Deputato, dovrebbe concludere. Concludo, Presidente, nelle condizioni per cui, se ci capita di dover litigare con qualcuno, dobbiamo prima chiedergli come si comporta sotto le lenzuola, perché se magari si sfrigola con qualcuno del suo stesso sesso, finisci in galera se gli dai dello stupido, significa per davvero non avere capito quali sono le emergenze. Non si sa dove vivete, non si sa da che pianeta siate pervenuti. L'auspicio è che vi ci possiate tornare al più presto, perché non ci sarà sempre un procaccini dietro al quale difendere le vostre vergogne. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Guidesi. Ne ha facoltà. Forse. Grazie, Presidente. Colleghi, esponenti del Governo. Noi ci troviamo qua oggi dopo non solo ore e ore di seduta di aula, ma anche ore e ore, come ricordava... Ha ragione. Chiedo di liberare i banchi del Governo, cortesemente. Grazie. Dopo ore e ore, come ricordava qualche collega precedente, di Commissione. Commissione dove, giustamente, come è stato detto, si è iniziato un dibattito perché la maggioranza, il Governo, ci ha chiesto di cercare di riempire di nuovi contenuti il testo. Abbiamo tentato di farlo presentando emendamenti, presentando proposte, ma invece all'interno della Commissione, sia di giorno che di notte, nelle quattro giornate e nelle quattro notti, che hanno visto continuamente riunita la Commissione, si è provveduto a dibattere di questioni magari interne, spicciole al Partito Democratico, di questioni interne alla maggioranza tra il PD e il PDL. Abbiamo tentato di aggiungere qualcosa sul testo che era arrivato nelle Commissioni che noi abbiamo ritenuto un testo vuoto, un testo assolutamente da riempire. Abbiamo cercato di farlo, ma siamo stati in alcuni casi bloccati da una richiesta di copertura finanziaria, che in alcuni casi vale, in altri casi non vale, in alcuni casi invece dall'ammissibilità di ciò che è stato presentato e in altri casi invece abbiamo cercato di trovare soluzioni nuove a quello che già era stato scritto. Per cui abbiamo inserito le imprese agricole in alcuni strumenti che vi erano nel testo e questo è un settore che era stato dimenticato dal Governo, come è dimenticato tutto il dibattere all'interno dell'Unione Europea sulla futura PAC. Il Governo si è dimenticato dei nostri agricoltori. Non è credibile la proposta di abbassare le tariffe dell'energia con la Robin Tax, perché non ci sono lì abbastanza soldi. Avete scoperto all'ultimo minuto che va dato un'accelerazione alla spesa dei fondi dell'Unione Europea destinati al Sud, come se fosse una cosa eccezionale quella che è accaduta quest'anno e quella che sta accadendo, preoccupati del rischio di perdere i fondi e della pessima figura che può fare il Paese rispetto all'Unione Europea. Avete scoperto che le aziende hanno bisogno di credito, ma non c'è nessuna influenza e nessun dibattito con gli istituti di credito e con le banche, veri protagonisti della mancanza del sostegno al credito alle nostre aziende. Avete rivisto la governance dell'agenda digitale, dimenticandovi che però sia in ritardo, con obiettivi e calendarizzazioni che ancora mancano. Vi avevamo chiesto di abolire la tassa di concessione governativa per i servizi telefonici, tassa che a suo tempo era stata messa come tassa sul lusso quando oggi i telefonini ce li hanno tutti. Addirittura la maggioranza non si è accorta ed è riuscita a peggiorare il testo votando un emendamento che inserisce una nuova procedura burocratica come quella del documento di regolarità tributaria. C'è un articolo che riguarda gli enti locali, quello dei 6.000 campanili, ma nessuna revisione all'interno di quell'articolo, all'interno del comparto degli enti locali, riguarda il patto di stabilità, la cancellazione o la flessibilizzazione di questi coefficienti del patto di stabilità, di cui tanto sentiamo parlare dall'ex Presidente di Anci e dal Ministro del Rio, ma che ancora oggi non vediamo, perché a volte chi fa l'amministratore a casa non si ricorda di essere lo Stato qui. Vi abbiamo chiesto di dividere i perlotti, gli appalti, di fare in modo che di creare soluzioni di premialità per gli appalti chilometro zero, per premiare le nostre aziende. Qualcuno ci ha risposto che l'Unione Europea non lo permette, ma si sappia che altri Stati lo fanno in piena tranquillità. È stato ritenuto Expo un evento nazionale, un evento che fa bene a tutto il Paese, come dice il Presidente del Consiglio, ma non si dà una mano agli enti locali che organizzano Expo, rivedendo il patto di stabilità degli stessi in maniera tale che quelle spese non vadano a cadere sulle strutture attuali. È un decreto dove c'è dentro di tutto. Addirittura siete riusciti a mettere dentro tutto un titolo, il titolo terzo, che riguarda il comparto giustizia, facendo confusione tra il titolo del decreto e invece il titolo terzo, che tra l'altro occupa forse il 40% di tutto il provvedimento. Nell'ultima notte avete fatto ancora di meglio. Siete riusciti ad inserire nella stampa del testo un avverbio negazionale che impedisce i limiti degli stipendi degli amministratori di alcune società pubbliche e se di errore trattasi, a quell'errore andrà data sicuramente una responsabilità ed è l'invito che faccio anche alla Presidenza della Camera. Infine, è arrivato un bellissimo emendamento dei relatori di maggioranza, il 49 bis. Relatori di maggioranza, ovviamente, facenti invece del Governo in quel caso, che portano un articolo dove si stanziano 930 mila euro per tre anni e mezzo per un nuovo commissario alla spending review che il testo dice può anche essere uno, una persona fuori dall'amministrazione pubblica. Con questo, incoerentemente, dite che per fare la spending review bisogna spendere dei soldi e con questo certificate l'incapacità del Governo a farla la spending review con i ministri o i sottosegretari attuali. Non solo, il testo ha una premessa chiara e limpida e questa è la vera continuità con il Governo Monti oltre al continuo aumento delle tasse, leggasi accise sulla benzina e leggasi, a quanto pare, in futuro, i nuovi aumenti sull'accise degli alcolici. Si dice che quel testo esce su chiara indicazione dell'Unione Europea, su chiara indicazione per fare le riforme, ma non è un testo che fa le riforme, non è un testo che non ha dentro nulla di riforme strutturali. È solamente un testo dove la Presidenza del Consiglio e il Governo tutti usciti da quel Consiglio dei Ministri sono riusciti a spendere come se fosse la soluzione di tutti i mali dell'economia del Paese. Come se fosse la soluzione per rinvigorire i consumi, per ricreare l'occupazione. Invece quel testo è vuoto e quel testo non è proporzionato alla comunicazione fatta e continuamente fatta da questo Governo e dal Presidente del Consiglio. Il testo è titolo a disposizioni urgenti per i rilanci dell'economia, ma lì non ci sono. Lì non ci sono, nonostante questo Governo goda di un'ampissima maggioranza, un Governo che è stato definito Governo di servizio, ma che all'interno di quel testo non ha nemmeno discusso, non ha preso, ma nemmeno discusso, le nostre proposte per attrattività di nuovi investimenti, per dare impulso ai consumi, per le tasse e l'abbattimento del cuneo fiscale in aiuto all'occupazione. Siete la vera continuità del Governo Monti, che tanto dal nostro punto di vista ha fatto male a questo Paese. Non date nessuna risposta al Paese. Non ci sono riforme forti, perché questo è un Governo privo di coraggio. Non ha il coraggio che dovrebbe avere un Governo in una situazione come questa e con tutta questa maggioranza alle spalle. Concludo, perché noi all'interno, rappresentando una parte di questo Paese, all'interno delle proposte che abbiamo fatto, ce n'erano alcune che fungevano in aiuto del territorio dove noi siamo stati eletti e del territorio che noi rappresentiamo. Alcune risposte potevano essere evitate, alcune risposte da parte di esponenti del Governo, che ancora una volta parlavano di territori ricchi e territori poveri. Chi viene da dove veniamo noi sa che quello non è un territorio ricco, non lo è più, o forse non lo è mai stato, ma ha sempre provveduto a mantenere tutto il resto del Paese. Oggi lì le aziende scappano, oggi lì manca l'occupazione, oggi lì la crisi si fa sentire ancora di più che da altre parti. Sappiate però che stavolta il Nord non sarà assuefatto, non farà finta di niente come le altre volte, stavolta ci sarà una reazione e un impulso di dignità e noi a quell'impulso daremo sicuramente vigore. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare la deputata Di Salvo, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Annuncio il voto contrario di Sinistra, Ecologia e Libertà. Questo decreto dà il titolo così evocativo, così importante e contemporaneamente, almeno per noi, così deludente. Noi abbiamo tre ragioni principali per le quali siamo contrari. Il primo motivo è che consideriamo questo decreto totalmente inadeguato a affrontare la crisi. Per la verità abbiamo sentito in discussione generale importanti e autorevoli esponenti, come si usa a dire della maggioranza, a dire la stessa cosa. Abbiamo sentito il Presidente Realacci dire che è un decreto senza visione, abbiamo sentito l'On. Tabacci insistere su questo punto, anzi colgo l'occasione per dire all'On. Tabacci che non condividiamo il suo ottimismo. L'On. Tabacci dice...